Arca è la certificazione di qualità e sostenibilità delle costruzioni in legno. Chiunque può certificare il proprio edificio Arca, quindi che sia la propria casa, un edificio multipiano, una scuola, un edificio pubblico. Quindi chiunque può richiedere la certificazione. L'importante è che l'edificio abbia la struttura portante in legno. Arca va a garantire prestazioni tecniche, va a garantire una gestione dell'edificio, va a garantire la sostenibilità dei materiali. Arca va a controllare quindi sia la fase di progettazione che la fase di realizzazione, quindi va a controllare la totalità dell'edificio. Quindi i nostri tecnici, nello specifico, vanno a controllare che il progetto sia corretto e in fase di realizzazione con due visite in cantiere e due test, quindi il blower door test e il test acustico, che il proprio edificio sia garantito e abbia una qualità totale. Per certificare il proprio edificio Arca basta mandare una mail o richiedere informazioni visitando la nostra pagina internet che è www.arcacert.it oppure mandandoci una mail a info-arcacert.com.